Come diceva Andreotti citando anche il Divo, spero di salire un po' più in alto, beh un po' più in alto c'è salito effettivamente, quindi c'è anche questo interessante dettaglio che fa anche capire che Shankani è una figura magari che passa un po' sotto traccia per noi che viviamo al di fuori dell'Iran, ma che in realtà ha delle sue anche ambizioni. E' un segnale di questa cosa il fatto che Shankani si era candidato precedentemente alle elezioni presidenziali o ha provato a concorrere alla presidenza. Questo ha causato delle forti critiche nei confronti di Shankani.